La procedura di riconoscimento giuridico da parte della Regione e della Fondazione Universitaria di Nuoro è stata interrotta a causa della mancanza di un requisito fondamentale. Non ha le risorse economiche per poter svolgere il suo scopo istitutivo. La comunicazione è stata data ieri al Sindaco di Nuoro, Andrea Suddu. Il primo cittadino insieme alla Giunta stamattina ha voluto fare il punto sulla Fondazione e all'indomani anche delle polemiche politiche con la vecchia amministrazione. La Regione ha scritto al Comune e alla Provincia dicendo che il procedimento di riconoscimento viene sospeso fino a quando non verrà integrato di alcuni documenti fondamentali per l'attribuzione di una personalità giuridica di diritto pubblico alla Fondazione che per oggi ha una personalità giuridica di diritto privato. Nel frattempo il Consiglio Comunale verrà chiamato a decidere sulla revoca o meno della Fondazione. La nota però è importante perché dimostra come l'amministrazione comunale ne ho eletta il 18 giugno quando il Sindaco in persona ha scritto al Presidente della Giunta regionale chiedendo la sospensione del procedimento ci aveva visto bene e aveva visto bene per salvaguardare proprio quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale. In attesa dalla decisione del Consiglio rimane comunque in piedi il Consorzio su cui voi penso intendiate investire? Noi intendiamo investire nel Consorzio rafforzando nella sua essenza e dando direttive come membri dell'Assemblea Consortile al Commissario neoeletto, neonominato affinché apra il Consorzio agli enti locali del territorio e a tutti coloro che vogliono dare un contributo alla presenza dell'Università nella Sardegna Centrale. Il futuro dell'artiglieria, oggi avete presentato queste 5.000 firme che sono rimaste nel cassetto per tanti anni qual è l'idea che avete su questa struttura? Noi come abbiamo detto ci siamo presentati alle elezioni chiedendo ai cittadini il consenso su un progetto ben determinato che è quello di costruire all'interno del Centro Storico di Nuoro una università e un centro universitario e allocandolo nel cosiddetto mulino Calisai. Abbiamo detto alla cittadinanza che secondo noi era opportuno valutare la scelta della ex artiglieria come un parco cittadino con impianti sportivi leggeri a disposizione della cittadinanza di mambe, bambini e di anziani e con quegli spazi architettonici già presenti da sfruttare per le arti e per la creatività. Grazie.